DIVOBINATION! Sì, non è bellissimo? È stupendo! Andiamo a salutarli. Piacere! Tex ha parlato con una ragazza. Una ragazza? Vorrebbe sposarla. Cosa? Non ho detto questo! Gliel'hai detto con gli occhi? Cosa? Aiuto! Stanno migrando! Migrare? Che idea stupida. Va bene, sei impossibile. Perché ho trovato un posto sicuro per vivere? Io voglio che usciamo a vedere il mondo. Che razza di padre sarei se mettessi in pericolo i miei rampolli senza motivo solo per l'opportunità di una vacanza ai Caraimi? Non rinuncio alla vita perché tu hai paura di lasciare lo stagno. Ci siamo! Torsione penne caudali? Fatto! Spiegamento ali? Fatto! Voliamo! Sì! 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 Perché volano tutti nell'altra direzione? Che cos'è questo posto? Vi avevo promesso avventura e sto mantenendo la promessa. Che roba è? Anatra all'orange. E che cos'è? Sei tu. Con l'orange sopra. Mamma, atterriamo? Sei abbastanza grande da farla in volo. C'è una situazione numero due. È disgustoso. Tutti gli uccelli la fanno in volo. E se là sotto qualcuno mi guarda? Nessuno ti guarda là sotto. Te l'ho già detto, non atterriamo. Non se ne parla di atterrare. Sicuri che nessuno guarda? Gwen Mallard! Falla subito, ti lasciamo qui. Va bene, va bene. Ci siamo persi. Dovremmo arrivare in Giamaica. Forza, piccioncini, da questa parte! Non voleremo in questa trappola mortale di città. Voi state vicino a me e tutto andrà alla perfezione! Sto benissimo! Sì, no, sto benissimo! Possiamo farcela! Mancata! Non statemi troppo vicino. Riturante di Löwe